Avvistamenti di oggetti misteriosi che solcano i nostri cieli, sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni anche grazie al fatto che ognuno di noi è in possesso di uno smartphone dotato di videocamera e, chiunque è in grado di riprendere questi UFO. Grazie alla tecnologia sempre più avanzata, le risoluzioni delle videocamere dei nostri smartphone sono molto migliorate rispetto ad un decennio fa, pertanto quello che vedrai tra poco, ti lascerà a bocca aperta. Siete pronti a vedere i migliori avvistamenti UFO di questi primi mesi del 2023? Questo video è stato registrato lo scorso 12 gennaio dalla cabina di un aereo, e mostra un oggetto di forma allungata che si muove nel cielo. Questa registrazione video arriva dallo Yucatan, in Messico, effettuata sempre a gennaio di questo anno. Si sentono delle voci in sottofondo in quanto è stato visto dall'interno di una macchina da un gruppo di persone, probabilmente una coppia. Si vedono delle luci nel cielo che si muovono assieme e formano una figura circolare che fa pensare alla sagoma di un disco volante, scrivi nei commenti cosa pensi possa essere. del 300 paraggiati! Spostiamoci adesso in Canada. Il 12 febbraio è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza questo oggetto che attraversa le nubi. Questa registrazione ha suscitato molto scalpore negli USA, tu cosa ne pensi? Sempre nel mese di febbraio, precisamente il 14 febbraio, in Cina, è stato registrato questo filmato in cui si vedono chiaramente delle strane luci riprese da una donna del posto. Certo esistono molte teorie su cosa possa essere stato ripreso, da una serie di satelliti a delle meteore, ancora però nessun organo competente ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su cosa possa essere realmente accaduto. Siamo in Arizona, in data 4 febbraio, sono state riprese queste strane luci che viaggiavano assieme, come se appartenessero allo stesso oggetto o, come se fossero collegate da una qualche forma di energia. Cosa pensi possa essere? Scrivilo nei commenti! Rimanendo negli Stati Uniti, più precisamente a Las Vegas, nel deserto del Nevada, centinaia di persone hanno potuto vedere un oggetto curioso, di forma allungata, che attraversava lentamente il cielo. Il 10 febbraio nel cielo degli Stati Uniti, è stata effettuata questa ripresa che risulta essere la più chiara e scioccante degli ultimi tempi. La registrazione è stata effettuata da una cabina di un aereo ed è stato poi condivisa anonimamente sul web. Il video è molto chiaro e se si rivelasse autentico sarebbe il miglior avvistamento degli ultimi anni. Spostandoci in Sud America, in Brasile per la precisione, questa registrazione ci mostra una montagna sulla quale stazione in aria, un oggetto apparentemente molto grande. Non sembra essere nulla di conosciuto o convenzionale ed ha lasciato tutti molto stupiti. Spostandoci in Sud America, in Stati Uniti, in Stati Uniti, in Stati Uniti, in Stati Uniti, e in Stati Uniti, in Stati Uniti, in Stati Uniti, in Stati Uniti. Sempre in Sud America, nella Pampa Argentina, viene ripreso questo oggetto il giorno 7 marzo 2023. Sullo sfondo si vede una enorme nave luminosa che galleggia a mezz'aria, non sembra essere né un aeroplano e nemmeno un drone o qualsiasi altro oggetto convenzionale. Per ultimo, ma non da meno, questo video che è diventato abbastanza virale sui social. Non si conosce il luogo dell'avvistamento, il video mostra un oggetto di forma triangolare, molto chiaro in quanto sembra essere vicino alla videocamera, infatti, ad oggi, rimane una delle riprese migliori di questo 2023. Che idea vi siete fatti? Scrivilo nei commenti e, se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato e, ricorda, la conoscenza è potere. Ci vediamo nel prossimo video.